Sempre su Region abbiamo la possibilità anche di limitare la registrazione ad una finestra del nostro computer. Naturalmente qui avremmo delle dimensioni relative appunto a quanto abbiamo dimensionato la finestra del nostro software o qualsiasi altra finestra di una cartella che noi vogliamo andare a registrare. Per cui la dimensione in pixel come larghezza e altezza sarà equivalente alla dimensione dei pixel che la finestra ha sul nostro desktop.